Grazie Presidente. Sottosegretario, parliamo di 41bis, parliamo di questo importante istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento per cercare di impedire in tutti i modi che i detenuti mafiosi mantengano le relazioni con l'esterno, che possano continuare ad avere comunicazioni con l'esterno come si vedeva purtroppo e si è visto in tante occasioni. Ora, questo istituto e il 41bis in generale è in pericolo anche a fronte delle scelte operate da questo Governo. È in pericolo perché il gruppo operativo mobile, il gruppo di agenti penitenziari preposti al controllo dei detenuti pericolosi, conta ad oggi 593 unità a fronte di 741 detenuti al 41bis. Questi sono numeri che gridano vendetta perché la dotazione organica del GOM nel corso di questi anni è progressivamente stata depotenziata. Non c'è la formazione dei nuovi agenti, non vediamo un intento di ripristinare in qualche modo effettivamente la dotazione organica del GOM e se nel 2010 il gruppo operativo mobile contava fino a 619 unità, oggi appunto, come le ho detto, siamo arrivati a 593. Non bastano, non bastano, non bastano anche a fronte della circolare che è stata introdotta, che è uscita il 2 ottobre del 2017 da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Una circolare che disciplina in maniera anche troppo dettagliata tutto quello che dovranno essere i comportamenti adottati nei confronti appunto del Istituto del 41bis. Allora, se all'interno di questa circolare ci sono delle disposizioni che danno delle prescrizioni particolari anche al GOM perché dovranno eseguire delle verbalizzazioni e dei controlli, dovranno eseguire delle perquisizioni personali, dovranno in qualche modo, come già succede oggi, ma ancora di più controllare in maniera scientifica tutto quello che avviene all'interno delle carceri, soprattutto quando i detenuti a 41bis hanno colloqui con i figli minori o con i loro avvocati. Allora, se gli vengono chieste e scritte dettagliatamente una marea di prescrizioni in questa circolare, che è la prima circolare così dettagliata e poi avremo modo di chiarire come mai questo è un altro motivo di pericolo per l'Istituto del 41bis, ma se vengono definite tutte queste prescrizioni in maniera dettagliata, allora contestualmente il gruppo operativo mobile è da tenere ancora di più in considerazione. Invece che cosa vediamo? Che il 28 luglio il Ministero fa un decreto che intende riorganizzare il gruppo operativo mobile e gli toglie addirittura l'autonomia amministrativa contabile. Ma che comportamento è? In ottica di spending review togliamo a agenti penitenziari che hanno dimostrato in questi anni di farla la spending review, perché ricordiamo che grazie al loro operato e grazie alla loro autonomia amministrativa contabile le spese sono contestualmente diminuite nel corso degli anni. Siamo passati da 9 milioni di euro a 4,6 milioni di euro, quindi il risparmio c'è già stato e il fatto appunto di togliere la figura del funzionario delegato e di togliergli questa autonomia non ha veramente alcun senso. Questo è stato fatto con questo decreto del 28 luglio 2017. Ancora arriviamo alle dichiarazioni del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, che si è permesso di dire pubblicamente che ho avuto anche incontri alla Direzione nazionale antimafia con i sostituti procuratori perché si ragioni sul limitare il numero di persone da sottoporre al 41 bis. Ma che messaggi stiamo dando all'esterno? Io so che, perché ci siamo visti, l'ho ascoltato, il capo del DAP ha avuto modo di chiarire queste dichiarazioni nell'audizione che abbiamo fatto in Commissione antimafia proprio poco tempo fa. Ma è comunque grave che questo messaggio sia stato mandato. Bisogna riflettere maggiormente quando parliamo di misure delicate come queste. E bisogna riflettere maggiormente anche quando si scrivono determinate circolari perché il Ministero, competente a fare osservazioni per cercare di cambiare questa circolare, a nostro avviso non ha fatto completamente il suo dovere. Non ha fatto il suo dovere perché i permessi di necessità, che sono quei permessi che gli unici che vengono dati ai detenuti in regime di 41 bis, sono quelli ad esempio per motivi di salute, sono drasticamente aumentati nel corso degli ultimi anni e questo a fronte di una magistratura di sorveglianza che non fa pronunce univoche in tutta Italia. Il tentativo di questa circolare, lo abbiamo capito benissimo, l'obiettivo è quello di tentare anche di uniformare le pratiche della magistratura e degli uffici di sorveglianza, siamo perfettamente d'accordo ma non si poteva e non è giusto farlo in questo modo. Perché? Perché in questa circolare così dettagliata sarà sicuramente, lo sappiamo già, impugnata dagli avvocati e dei boss per continuare a fare una marea di ricorsi, dato che le interpretazioni alle disposizioni che sono state scritte possono essere una marea. Allora, qui noi non ci siamo dimenticati di ciò che è avvenuto in questa legislatura. Il tentativo di mettere in pericolo la legislazione antimafia degli ultimi 25 anni, noi lo abbiamo visto anche da parte di questo governo purtroppo. Questo, come le dicevo, è un po' l'ultimo capitolo, ma noi non ci siamo dimenticati del decreto legge del 23 dicembre 2013 da parte del Ministro Cancelleri, quando eravamo ancora al Governo Letta e quando veniva introdotta la liberazione anticipata speciale, cioè da 45 a 75 giorni di sconto di pena per buona condotta, anche inizialmente nel disegno originario, quando il decreto è entrato in vigore, anche ai detenuti mafiosi, anche ai detenuti per reati di mafia e per reati di terrorismo, ad esempio. Siamo riusciti a vanificare, per fortuna a evitare il peggio e quindi a modificare quel decreto legge soltanto dopo grazie alle nostre denunce del Movimento 5 Stelle. Non ci siamo però dimenticati che quel decreto ha prodotto i suoi effetti e che ci sono delle persone, dei detenuti che sono usciti prima grazie alla liberazione anticipata speciale, introdotta, come le dicevo, dal Governo Letta e dal Ministro Cancelleri del Tempo. E non ci siamo dimenticati della riforma dell'ordinamento penitenziario, quando anche qui, nella bozza originaria, prima che entrasse in vigore, ma in quello che avevate scritto all'inizio, che il Ministero aveva scritto all'inizio, c'era lo smantellamento dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. C'era la volontà di concedere i benefici penitenziari anche a quei detenuti che non avessero per mafia, che non avessero collaborato con la giustizia. Una cosa gravissima, perché la tenuta dell'Istituto del 41 bis e della collaborazione con la giustizia da parte dei boss mafiosi, è quello che caratterizza maggiormente l'azione di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Perché nel momento in cui noi poniamo come punti principali l'aggressione ai patrimoni e quindi ai soldi delle mafie e, dall'altra parte, il fatto di impedire che quando un boss mafioso, un detenuto per mafia, viene messo il 41 bis, non possa in alcun modo colloquiare o mantenere le relazioni con l'esterno e lo potrà fare soltanto se sceglierà di collaborare attivamente con lo Stato e di dare il suo contributo all'accertamento della verità, all'aggressione appunto degli appartenenti alla criminalità organizzata. Se questi punti vengono in qualche modo scardinati progressivamente, non si va da nessuna parte, si torna indietro. Torniamo ad una situazione di far west e questo non è ammissibile. Come non è ammissibile? Le dicevo le scelte che sono state fatte da questo Governo, sia con la liberazione anticipata speciale del 2013, sia con la riforma dell'ordinamento penitenziario quando è stata scritta, anche se poi siamo riusciti a modificarla e a impedire che venissero concessi appunto i benefici penitenziari anche ai detenuti per mafia, terrorismo o per altri reati gravi. Ma è comunque grave che lo abbiate scritto. Ora poi arriva questa circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e voi, in un anno e mezzo, sostanzialmente fate delle osservazioni e viene in qualche modo modificata questa circolare soltanto per permettere al Garante Nazionale dei detenuti di avere ancora, fra virgolette, più potere di colloquio con i detenuti del 41 bis. Perché altre modifiche sostanziali, altre cose importanti che erano da fare, a nostro avviso, non sono state fatte. E allora che cosa stiamo chiedendo con questa interpellanza urgente? Numerose domande, ma alcune in particolare sono quelle che le voglio qui rammentare. La prima cosa, ripristinare in tutti i modi, tentare di ripristinare, abbiamo la legge di stabilità, la dotazione organica del gruppo operativo mobile, per arrivare a quelle 821 unità che sono previste. Perché quello deve essere l'obiettivo e non si può continuare in questo modo. Contestualmente la formazione di questi agenti. Ancora ripristinare l'autonomia contabile e quindi dare la possibilità al GOM di essere effettivamente autonomo anche dal punto di vista amministrativo contabile. Ancora, esiste un piano per incrementare i posti al 41 bis con delle strutture idonee. Perché se in questa circolare all'articolo 2 si scrive che i detenuti al 41 bis devono stare in strutture idonee, sappiamo che attualmente l'unica struttura idonea è quella di Sassari. Ci sarebbe quella di Cagliari-Uta, che ancora non è pronta. E allora quando sarà pronta questa nuova sezione di Cagliari, speriamo presto. Anche da qui ci aspettiamo delle risposte chiare. E infine, delle modifiche che noi chiediamo a questa circolare, perché ancora è possibile, speriamo, farne. Quando si scrive che non ci può più essere un vetro divisorio nel momento in cui i detenuti al 41 bis incontrano i loro figli minori e quindi sparisce il vetro divisorio. Questa è una disposizione, a nostro avviso, gravissima, gravissima. Perché non si può permettere che si utilizzino i minori per far passare ad esempio dei pizzini o delle comunicazioni all'esterno. Potrebbero essere utilizzati anche questi minori per portare messaggi fuori dal carcere. Ed è gravissimo. Ancora, i colloqui che i detenuti potranno avere con i loro avvocati, si potranno scambiare informazioni anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici. Quindi non attraverso solo supporto cartaceo ma anche informatico. Anche da qui. Ma non vi è venuto il pensiero che possono così essere favorite maggiormente le relazioni all'esterno. Queste sono osservazioni normalissime che bisognava fare e bisognava prevedere, impedirle all'interno di questa circolare. Ancora, stiamo chiedendo di rendere obbligatorio il parere della direzione distrettuale antimafia perché non è previsto un parere vincolante quando si parla di soldi, quando si parla anche di giornali e quando si parla di altre disposizioni trotti da questa circolare. Il parere della direzione distrettuale antimafia dovrebbe essere vincolante e invece sembra che sia quasi così un modo superficiale per chiedere un parere o perlomeno questa circolare desta troppe interpretazioni. Ancora, le visite, gli incontri anzi, del garanti locali. Abbiamo visto che il garante nazionale dei detenuti potrà avere colloqui riservati con i detenuti a 41 bis, ma i garanti locali, regionali, comunali, non possono avere questo potere perché anche qui sarà un modo per portare ancora di più e per enfatizzare le relazioni con l'esterno. Nella disposizione introdotta dalla circolare, il punto 16.6, ce lo ricordiamo ormai a memoria perché l'abbiamo spulciata tutta questa circolare, proprio perché ne abbiamo notato la gravità in numerose disposizioni, non è chiaro se i garanti locali potranno avere delle visite ex articolo 67 dell'ordinamento penitenziario o dei colloqui riservati. Si parla di incontri. La parola incontri non c'è nelle articoli che disciplinano l'ordinamento penitenziario le visite o i colloqui. Quindi o si parla di visite o si parla di colloqui, ma non si può parlare di incontri. Gli incontri che cosa saranno? Anche qui daremo luogo a numerose interpretazioni magari da parte e impugnazioni con ricorsi da parte degli avvocati dei boss. Vogliamo continuare a favorire tutto questo? L'ultima nota sottosegretario è più una nota di metodo. In un anno e mezzo di lavori preparatori per questa circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero ha scelto di avere degli scambi con il garante nazionale dei detenuti e se ne è infischiato della Commissione antimafia. Certo che non c'è un obbligo di legge, è ovvio, è una commissione di inchiesta che non ha l'obbligo di essere sentita tutte le volte che scrivono decreti ministeriali o circolari, come in questo caso da parte dell'amministrazione penitenziaria, che la invia al Ministero della Giustizia per le dovute osservazioni. Ma se c'è stata un'interlocuzione col garante nazionale dei detenuti, perché non ci poteva essere in un anno e mezzo, anche con la Commissione antimafia, anche solo per avvisare e dire avete delle osservazioni, dato che nei compiti della commissione di inchiesta, ricordiamolo, non una commissione permanente, una commissione di inchiesta che è qui in Parlamento da 50 anni e passa, non c'è stato neanche la volontà di avere un dialogo per capire se, proprio perché nelle nostre prerogative di Commissione antimafia, poterci occupare del 41bis, avere dei colloqui su questo. Quindi i comportamenti che avete adottato secondo noi sono gravissimi e le chiediamo appunto di fornirci risposte su tutti questi punti perché quando si parla di questi temi non dovrebbero esserci distinzioni nella lotta e nel contrasto alle mafie. E invece vediamo che purtroppo con le vostre azioni state dando e state mandando dei messaggi gravissimi, non solo, come le dicevo, ai detenuti sottoposti al regime di 41bis, ma alla cittadinanza tutta. Con l'interpellanza in discussione viene affrontato il tema della disciplina del regime detentivo previsto dall'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario e delle applicazioni pratiche dello stesso. Vengono in particolare affrontate questioni connesse da un lato al profilo della struttura dell'articolazione della Polizia penitenziaria deputata alla custodia, alle traduzioni e dal controllo dei detenuti ad alto indice di pericolosità e dall'altro alla regolamentazione di aspetti della vita detentiva contenuta nella recente circolare adottata in materia dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. In linea generale va sottolineato come, a partire dalle riflessioni maturate in seno agli Stati Generali dell'esecuzione penale, l'impegno di questi anni sia stato, tra l'altro, rivolto alla realizzazione di un nuovo modello detentivo, effettivamente funzionale al recupero del condannato secondo la direttrice imposta dai principi costituzionali e convenzionali. Al processo di revisione in atto non può certamente essere sottratta la tematica del trattamento dei detenuti sottoposti al regime di cui è l'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario e più in generale dell'alta sicurezza. Nella ricerca di un nuovo equilibrio tra qualità della vita detentiva, finalità trattamentali ed esigenze di sicurezza della collettività. In proposito, va anche in questa sede, ribadito come la complessiva riflessione in atto sull'esecuzione penale, non tenda ad escludere, ma anzi confermi, la ineliminabilità della detenzione carceraria anche come unica forma di pena nel percorso trattamentale per determinati reati, soprattutto quando si tratta di rompere legami criminali profondi e pericolosi per la democrazia. In questa prospettiva, il regime di detenzione declinato dall'articolo 41bis è e resta strumento irrinunciabile e la sua compatibilità con la necessaria funzione risocializzante viene garantita dalla periodica verifica della sussistenza delle condizioni che impongono e giustificano le sue modalità di applicazione, legandone la permanenza al rapporto che il detenuto ha elaborato con il reato e con il trattamento e alla conseguente eliminazione dell'area di rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Ferma dunque l'esigenza di sicurezza e di frontale contrasto al crimine organizzato, anche in questo settore le finalità rieducative proprie della sanzione penale secondo il modello costituzionale non possono essere trascurate e, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, devono essere superate quelle restrizioni non strettamente funzionali alle esigenze di sicurezza che rischierebbero di risolversi in limitazioni automatiche, ingiustificate ed inutilmente punitive. Ferme queste premesse è stato nel tempo osservato che il regime detentivo speciale declinato dal legislatore ha trovato applicazioni di dettaglio differenziate sul territorio nazionale, condizionate anche dallo stratificarsi di una serie di circolari riguardanti singoli aspetti della vita detentiva. Proprio al fine di evitare disparità di trattamento sul piano applicativo e dallo scopo di armonizzare e di rendere coerenti prassi esecutive difformi, è stata elaborata una nuova ed unitaria circolare generale, diramata lo scorso 2 ottobre avente ad oggetto l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, tenuto conto dei pareri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. La recente circolare, come peraltro evidenziato dalla competente articolazione ministeriale, non ha apportato sostanziali modifiche rispetto alle disposizioni vigenti, bensì ha inteso introdurre disposizioni dettate dall'esigenza di adeguamento uniforme alla giurisprudenza della magistratura di sorveglianza. Proprio l'uniformità che la circolare in questione ha lo scopo di assicurare contribuisce a scongiurare il pericolo, paventato dagli onorevoli interpellanti, di situazioni di supremazia di alcuni detenuti. Quanto all'aumento dei permessi a soggetti sottoposti al regime detentivo in trattazione, si osserva che la concessione dei permessi di necessità, come è noto, è rimessa in via esclusiva al prudente ed autonomo apprezzamento della magistratura di sorveglianza, alla quale, comunica il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è stata comunque spesso richiesta la rivalutazione del provvedimento. Con specifico riguardo ai temi di dettaglio trattati nell'interpellanza, in relazione alla citata circolare, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha comunicato quanto segue. Materassi o altri presidi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione penitenziaria vengono acquistati dalla competente azienda sanitaria locale o dall'Amministrazione stessa e solo in ultima ipotesi, in mancanza di fondi, a spese del detenuto. I detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41 bis sono alloggiati in camera di pernottamento singola e la quantità di oggetti che possono detenere è stabilita proprio perché non sia ostacolato il controllo dei locali. Non sussiste alcun pericolo di scambio di messaggi fraudolenti attraverso libri con copertina rigida in quanto è vietato lo scambio tra ristretti, così come l'invio e la ricezione da e per l'esterno. I disegni o i quadri realizzati dai detenuti non vengono inviati all'esterno, ma custoditi in appositi magazzini degli istituti penitenziari. È escluso quindi l'invio di messaggi in codice attraverso tali opere. Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia nella gestione del peculio, dei giornali e delle conversazioni telefoniche viene richiesto per garantire un'istruttoria più approfondita e più attenta. Il parere tuttavia non è vincolante, non essendo attribuita dalla legge all'autorità giudiziaria la competenza nelle citate materie. Lo scambio di materiale giuridico tra difensore e detenuto, sia esso in formato cartaceo o elettronico e che comunque viene sottoposto a controllo, avviene con le modalità previste dal codice di procedura penale a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. I supporti informatici vengono consentiti solo su espressa autorizzazione delle competenti autorità giudiziarie, che dovranno certificare che il materiale non è consultabile in formato cartaceo. Il colloquio visivo senza vetro divisorio con i figli minori di anni 12 è una previsione introdotta sin dal 1998, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 376 del 1997. Anche tali colloqui comunque sono sottoposti a videoregistrazione ed ascolto, come previsto dalla normativa vigente. L'attività del Garante nazionale dei diritti dei detenuti è regolata dalla Convenzione di New York del 18 dicembre 2002, ratificata con la legge 9 novembre 2012, numero 195. Ed il Garante, in quanto organismo di monitoraggio indipendente, è autorizzato ad accedere senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41 bis, incontrando detenuti ed internati e potendo svolgere con essi incontri riservati senza limiti di tempo. Per quanto riguarda i garanti locali dei diritti dei detenuti, l'accesso in istituto è regolato dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario ed in linea generale specificato con successive circolari che hanno espressamente chiarito che dette autorità possono interloquire con i detenuti e gli internati al fine di rendersi conto in maniera più completa delle condizioni di vita degli stessi, pur non potendo tali dialoghi assumere la consistenza di veri e propri colloqui. Quanto invece agli aspetti strutturali, si rappresenta come ai reparti attualmente destinati ad ospitare i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis si aggiungerà quello in corso di realizzazione presso l'istituto penitenziario di Cagliari. Si specifica al riguardo come la situazione dell'istituto di Cagliari, più volte portata all'attenzione degli interlocutori istituzionati, si è inserita nell'ordine del giorno del Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa col Ministero della Giustizia per il prossimo 14 novembre, anche al fine della trattazione del finanziamento delle opere di completamento e del padiglione 41 bis. Per quanto riguarda poi il gruppo operativo mobile, il GOM, del Corpo di Polizia Penitenziaria, è noto come lo stesso abbia tra i propri compiti custodia, traduzione e controllo dei detenuti in regime 41 bis. Proprio tali competenze e preparazioni specifiche hanno reso indispensabili attribuite al medesimo gruppo operativo mobile la vigilanza ed il controllo dei soggetti che, pur non appartenendo al circuito 41 bis, risultano essere stati condannati per reati inerenti al terrorismo, anche internazionale, al fine di potenziare l'azione di controllo e monitoraggio del fenomeno del radicalismo in ambiente carcerario. A fronte di tale ampliamento delle competenze del gruppo, sono stati programmati interventi di rafforzamento strutturale. Secondo quanto comunicato dalla competente articolazione ministeriale, l'organico specifico del GOM sarà infatti portato a 620 unità di personale. Sono peraltro già in corso le iniziative volte alla completa ed effettiva copertura dell'organico stesso, sia attraverso la riattivazione di graduatori relativi ad interpelli già espletati, sia attraverso il possibile esercizio da parte del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dei poteri di assegnazione di personale aggiuntivo al GOM previsti proprio dal decreto ministeriale dello scorso 28 luglio. Quanto alle questioni relative all'organizzazione del gruppo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che sono state esaminate le problematiche relative alla cessazione delle attribuzioni di funzionario delegato in capo al Direttore del GOM. All'esito della discussione di un apposito gruppo di lavoro, è stato dato in carico al Direttore Generale del Personale e delle Risorse di elaborare, in modo condiviso con il Direttore del GOM, una proposta definitiva che dovrà tener conto anche dell'inquadramento organico del personale e delle questioni attinenti all'autonomia contabile e amministrativa del gruppo, con diassicurare efficacia e rapidità di intervento nei delicati settori di competenza. Quanto rappresentato, testimonia la costante attenzione riservata dal Ministero ai temi oggi in discussione, con l'obiettivo di coniugare la qualità della vita detentiva e le finalità trattamentali con le esigenze di sicurezza della collettività e di assicurare un'efficiente organizzazione del gruppo operativo mobile anche attraverso interventi di potenziamento della relativa dotazione organica. La ringrazio. L'On. Ferraresi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario Chiavaroli, grazie per la sua presenza perché non l'avevamo mai vista e non tanto per la sua risposta di cui non ci riteniamo alquanto soddisfatti. Inizio subito col dire che gli stati generali che avete affrontato hanno parlato per lo più di superare anche l'ergasto allo stativo, quindi di certo non possiamo pensare che queste misure ci possono ritenere soddisfatti da questo punto di vista. Quando si parla di carcere e di recupero siamo tutti d'accordo che deve essere affrontato il problema che non è stato affrontato in questi anni perché invece di pensare alla rieducazione dei detenuti nelle carceri o a ristrutturare le carceri o a sistemare gli impianti di sicurezza o l'organico della Polizia Penitenziaria o di garantire un lavoro, voi avete fatto in questo Governo almeno tre o quattro svuotacarceri, quindi l'unico obiettivo che avevate era liberare le carceri per far bella figura in Europa. Purtroppo il problema però è ritornato più forte di prima visto che siamo tornati in piena emergenza carceraria, i detenuti, il personale amministrativo e la Polizia Penitenziaria che vivono questi istituti sono una condizione di assoluta emergenza e di vita che non corrisponde a criteri di dignità, sottosegretario. E più volte i rappresentanti del suo Governo hanno parlato di superamento dell'ergastolo ostativo che è l'unico ormai presidio di legalità e di sicurezza del nostro Paese contro le mafie. Io ricordo le parole di Santi Consolo, del Ministro Orlando e di tanti altri appartenenti alla sua forza politica per il superamento di questo ergastolo ostativo. E andiamo ai punti, quelli che hanno avuto una risposta e quelli che non hanno avuto una risposta. In primis nessuno dice che l'amministrazione non si deve fare carico di andare incontro a delle richieste necessarie. Quelle non necessarie però non ci sembra logico. Non ci sembra logico per esempio che un'amministrazione deve far fronte con i propri soldi, con il proprio denaro a presidi ortopedici o a vari oggetti descritti nella circolare quando i detenuti normali vivono una situazione di assoluto tracollo, di assoluta inesistenza di principi reeducativi di tortura. Non è possibile garantire ai boss mafiosi che sono la figura più importante di contrasto allo Stato, di sostituzione della mafia allo Stato dei presidi del genere. Allora prima ci occupiamo del benessere generale di tutti i detenuti perché tutti i detenuti vivono delle situazioni incredibili, ammassati nelle celle e poi pensiamo anche a magari se ci riusciamo le stazioni di polizia penitenziaria, le mense, i gabbiotti dove vivono praticamente rinclusi gli agenti e poi magari i presidi ortopedici per i 41 bis. Anche perché non so se lo siete immaginato, quando questi detenuti vengono trasferiti e capita molto spesso, questi materassi, ha mai pensato come si fanno a trasferire questi materassi ortopedici? Cioè dove si mettono? Nella cosa, nel camioncino della penitenziaria che porta il boss all'altro istituto, visto che cambiano molto spesso giustamente, non lo siete mai chiesti? Allora, il non parere vincolante della DDA perché non hanno competenza, ho sentito una cosa del genere, cioè stiamo scherzando forse, il parere vincolante della DDA in alcune parti è richiesto. Allora perché lei mi dice che su altri aspetti non hanno competenza o non ci deve essere il parere vincolante? Stiamo scherzando, se non dà la DDA al parere vincolante chi lo dà? Alfano, Berlusconi, chi lo facciamo dare il parere su queste cose? Sui giornali che ricevono, visto che tantissimi giornali di associazioni o di partiti politici fanno riferimento a veri e propri messaggi nei confronti dei 41 bis, non so se li ha mai letti, oppure del peculio, della gestione del denaro, di invio del denaro all'esterno o dell'invio del denaro al detenuto. Lo sa che molti mantengono nelle nostre carceri un predominio assoluto con i pacchi di sigarette e marboro, con il sopravvitto, con l'invio del denaro all'esterno? E secondo lei la DDA non deve avere un parere vincolante sulla gestione del denaro ai mafiosi? Cioè praticamente il primo punto di contrasto alla mafia, il primo punto su cui Borsellini e Falcone hanno dato la vita, oltre all'ergasto allo stativo, è la gestione dei soldi e il DDA non deve avere il parere vincolante sulla gestione dei soldi. Io rimango veramente senza parole. Oppure per quanto riguarda le conversazioni telefoniche, anche qui. Il diritto di difesa viene garantito tramite il supporto cartaceo, perché con i documenti gli si danno i faldoni, come tutti i cristiani, gli avvocati e gli imputati di questo Paese si prendono i faldoni pagando contributi unificati enormi e spese per le fotocopie, non capisco perché non possono essere consegnati ai boss mafiosi, i criminali più pericolosi di questo Stato, semplicemente i fogli e le fotocopie degli atti processuali. Perché gli si debba dare ai supporti informatici delle chiavette, delle chiavette con dispositivi, addirittura c'è scritto una circolare dei dispositivi Kindle, degli iPad, viene dato questo supporto a un boss mafioso, con tutte le truffe già informatiche che a fatica riusciamo a controllare nel nostro Paese. Figuriamoci cosa riusciranno a imboscare dentro questi dispositivi informatici, cosa riusciranno a fare. Il vetro divisorio, caro sottosegretario, ma mi rivolgo al Ministro Orlando che ha mandato lei, il vetro divisorio non c'è scritto da nessuna parte che non deve essere garantito, perché la Corte Europea dei Diritti Umani dice appunto, e la Corte Costituzionale dice che deve essere favorito il contatto ovviamente e lo scambio con parenti e familiari, ma dice anche che per motivi di sicurezza va assolutamente lasciato lo Stato libero di intervenire con strumenti che possano impedire lo scambio di informazioni e il pericolo di sicurezza per la nazione. È un contemperamento di esigenze e di un equilibrio necessario. Nessuno dice che non devono avere rapporti, ma quando si parla di vetro divisorio si parla di un contatto che in tutti questi anni, come abbiamo visto dalle indagini che nascono, consente il passaggio di pizzine di comunicazione dall'esterno all'interno. E glielo dico, ultimamente, proprio questa settimana sono usciti sul giornale degli scandali, addirittura di poliziotti penitenziari o di personale o di altri detenuti infiltrati che passavano informazioni ai boss e addirittura facevano comandare tramite telefoni cellulari degli omicidi all'esterno. E lei crede se alcuni sono riusciti a corrompere alcuni agenti che alcuni figli non possono essere utilizzati per lo scambio di informazioni? È possibile impedirlo? Come è possibile capire che il metal detector non può servire, non è sufficiente a garantire le perquisizioni? Perché se non ci sono ufficiali, se non c'è personale, questi non si fanno perquisire. E chi verbalizza i 160 detenuti dell'Aquila al 41bis? Ma con quali forze noi chiediamo perquisizioni dopo i contatti con le persone o con i figli per vedere se il boss ha dentro qualcosa dei pizzini o degli oggetti? Ma chi garantisce questa cosa qui? Con 160 detenuti e non c'è la polizia per ritenziare, per verbalizzare. Cosa devono passare? Tutto il giorno verbalizzare delle perquisizioni. Se non c'è l'ufficiale non possono neanche farlo. Sono più furbi, boss, del 41bis, di quanto le nostre forze possano garantire. E ancora, quindi vuol dire che se una dichiarazione di New York, ratificata dal nostro Paese, permette incontri riservati senza limiti di tempo al garante nazionale, noi lo dobbiamo fare? Senza una norma? Cioè, lei sta dicendo che senza una norma prevista dal 67 dell'ordinamento penitenziario, noi possiamo, senza una legge che lo prevede, permettere dei colloqui riservati senza limiti di tempo al garante dei detenuti presso detenuti 41bis? Noi non abbiamo una norma. Non abbiamo una norma che lo prevede nel nostro ordinamento. Non abbiamo una norma e voi lo scrivete in una circolare. Questa è una violazione di legge. Allora, prendetevi la responsabilità di scriverlo sull'ordinamento penitenziario articolo 67, i garanti dei detenuti nazionali possono fare incontri senza limiti di tempo con i detenuti 41bis. Ma non veniteci a raccontare che una circolare vale di più della legge dello Stato. I garanti dei detenuti locali, benissimo, questi incontri, visto che avete scritto incontri, sono visite. Benissimo, allora modificatela domani e inseritelo. Inserite che sono visite e non sono incontri. Perché avete scritto incontri? Perché è proprio nel paragrafo dove si specifica che gli incontri senza limiti di tempo sono quelli del garante nazionale. E perché non avete scritto visite, allora? Le carceri sono l'una davanti all'altra. Le messe non si riescono a garantire senza contatto dei detenuti. Vi siete mai fatti un giro nelle carceri italiane che ospitano 41bis? Non ci sono controlli e presidi di sicurezza e uomini sufficienti per non garantire il contatto tra detenuti del 41bis e scambio di informazioni? Fatevelo un giro. Visto che nell'articolo 2 scrivete che devono essere tutti in strutture adeguate e idonee. Non ci sono strutture adeguate e idonee. Allora perché lo scrivete? Concludo, Presidente, dicendo che non ha risposto su un piano strutturale per il 41bis. Non basta quello di Cagliari, anche se non so se arriverà, ma dovete costruirle tutte perché nel vostro articolo 2 voi scrivete che i detenuti 41bis devono stare in queste strutture. E allora non bastano le 600 unità. Le 600 unità di gom sono il minimo garantito. Dovrebbero essere più di 800 e sono 500 e passa. Non è sufficiente. Dovete intervenire subito. L'autonomia contabile ora è garantita in capo al nucleo scorte. Cioè le scorte dei politici gestiscono i soldi per quanto riguarda anche il gom. E sulla commissione antimafia mi dispiace. Il sottosegretario non ha risposto. Perché non è stata interpellata? Voi state favorendo il 41bis, state favorendo la mafia in questo paese. Ve ne state prendendo la responsabilità.